benvenuti sul mio canale tutto dal web lascia un like se ti va e attiva la campanellina per non perderti le prossime news in questo video ragazzi parliamo della promessa che ne andrà in onda e andate in onda con l'ultima puntata oggi venerdì 22 settembre mediaset però ha assicurato il suo ritorno nel 2024 quando terramara terminerà ma vediamo cosa accadrà a yana per yana ci sarà ancora da combattere visto che presto yimena scoperrà che lei ha contribuito al restauro dell'aereo di manuel per evitare un ravvicinamento tra il mercatino e la cameliera yimena manderà a casa dei duchi qui la ragazza verrà maltrattata e torturata tanto che quando tornerà al palazzo la sua vita sarà in serio pericolo manuel infatti sarà molto preoccupato per lei ma i capricci di yimena gli impediranno di occuparsi della povera cammeriera infatti yana dovrà affrontare un periodo durissimo a casa dei duchi per decisione proprio della moglie di manuel quest'ultima spaventata da un possibile riavvicinamento con suo marito allontanerà la cammeriera come vi stavo dicendo e tuttavia yimena non si limiterà solo a mandarla via ma ordinerà che la ragazza venga maltrattata e torturata come vediamo in queste immagini infatti nella seconda stagione della promessa la vita di yana sarà appesa a un filo la cammeriera tornerà in condizioni pietose e sarà piena di lividi presto anche donna pia si renderà conto che yana non è in condizioni di lavorare poiché sarà evidente che è stata vittima di maltrattamenti e abusi